Questa è vita vera. Non è né Facebook, né internet, né Youtube, né altre cose. Me la sto facendo a piedi, da Imperio fino a Sant'Agata, sotto la pioggia. Questa è vita vera. Non è scrivere cose, farsi i compleanni, tutte queste cose. Questa è vita vera, ragazzi miei. E io per tre mesi questa vita la farò a piedi, in giro, ma io restrivo in Dostoev Agnesi, Osev Tradeco, ma continuando le mie lotte. La vita falsa è quella che qualcuno dovrebbe farmi nome e cognome di certe cose, ma non me le fa, non faccio né nome né cognome. Ma questa è vita vera. Grazie e arrivederci.